Barcellona, Spagna, 21 settembre, continua a tenere banco la diatriba tra FIBA ed Euroleague in tema di calendari annuali e di finestre riservate alle qualificazioni ai mondiali del 2019 durante la stagione, che sta per cominciare. Questo oggi potrebbe esserci stato però un primo passo verso la strada che porta al dialogo tra le parti, e a farlo è stata Euroleague, che ha proposto invia ufficiale alla federazione internazionale una nuova tipologia di calendario che possa consentire anche ai giocatori che militano in NBA ed Euroleague di prendere parte agli impegni con le nazionali. La bozza di calendario stilata da Euroleague, che sembra trarre ispirazione dal calendario della stagione calcistica europea, prevede 38 settimane, da ottobre a metà giugno, dedicate alle coppe e ai campionati, due settimane nella seconda metà di giugno dedicate alla preparazione fisica delle nazionali, quattro settimane in luglio dedicate alle varie competizioni FIBA, quattro settimane di riposo assoluto per i giocatori in agosto, e infine quattro di preparazione in vista della nuova stagione riservate ai club in settembre. Resta ora da capire se FIBA, che nelle scorse settimane era apparsa fortemente ancorata alla propria posizione, prenderà seriamente in considerazione la proposta di Euroleague. L'impressione però è che Euroleague sia riuscita a trovare una soluzione ragionevole, concretamente attuabile e in grado di gettare le basi per creare un dialogo serrato ma proficuo tra le parti, che potrebbero anche arrivare nel giro di qualche mese ad una soluzione.